23 nella sua gara, il giocatore di cui ha assoluto bisogno in questo finale Pino Sacripanti dalla panchina, di nuovo più 10 per l'acqua vita snella ultimi 5 minuti in arrivo fra 37 secondi la rubata di Feldin che affonda la bimane in campo aperto, ridando la doppia cifra di vantaggio a Cantù questa grandiosa intuizione difensiva di Feldin che si nasconde dietro e qui tutta, vediamo la, possiamo definirla disperazione di sicuro non un segnale positivo ovviamente